Sono stracci se volete, ma io amo i miei stracci. Da questa citazione di Molière è partita la collezione Autunno-Inverno 2014-2015 di Alessio Visone, lo stilista napoletano che da giovedì a sabato presenta le sue ultime creazioni nell'atelier di Via dei Mille in quel di Napoli. Un viaggio inedito tra stravaganza e classicismo, accostando colori che richiamano agli elementi naturali e alla terra qualcosa di più osato, comprendente anche per quanto riguarda gli accessori, cappelli da cowboy, tacchi altissimi che richiamano una sensualità tutta femminile, pochette dalle dimensioni decisamente grandi e orecchini corredati da oggetti molto ma molto particolari. Allora ascoltiamo lo stilista circa le invenzioni del suo genio. La donna dell'alta moda appartiene a un mondo che vive, a un mondo che viaggia, a un mondo che esce alla sera, quindi recita quantitamente un ruolo che è sempre il suo e deve essere sempre il suo ruolo, quello di comunicare quello che c'è dentro. Questo riferimento a Molière viene dall'idea sempre per confermare le mie tesi su una donna che deve essere convinta di ciò che indossa. Se sono stracci li deve amare perché sono i suoi stracci. Questa è una cosa importante e come io quando creo, creo con convinzione, quindi anche se per gli altri sono stracci per me non lo sono. Non ci dimentichiamo la milizia, siamo pronti noi.